Le TV Samsung ES5500 sono Smart TV Full HD dotate di tecnologia LED per colori nitidi e ultra realistici. Il design è studiato nei minimi dettagli, la scocca solida e la scelta dei materiali rendono questi dispositivi ottimi oggetti d'arredamento, eleganti e funzionali. Il modello UE32 ES5500 ha un display con una diagonale di 32 pollici che si estende per 740 mm in larghezza e 449 mm in altezza, lo spessore dello schermo invece di soli 47 mm. Sulla parte posteriore troviamo tutto il comparto dei collegamenti, gli ingressi e le uscite sono davvero numerose. Abbiamo innanzitutto l'ingresso Common Interface, due ingressi di tipo USB laterali, un ingresso HDMI sulla parte laterale, un'uscita audio digitale, due ingressi HDMI, un ingresso ed un'uscita audio, un ingresso di tipo SCART, un ingresso composito, il connettore per il digitale terrestre, l'ingresso component e infine l'ingresso Ethernet. Sulla parte posteriore sinistra troviamo un comodo joystick da utilizzare per navigare fra i menu del televisore senza l'ausilio del telecomando. I TV Samsung ES5500 racchiudono al loro interno un'infinità di tecnologia. Grazie al Wide Color Enhancer Plus sarà possibile godere di contenuti con una perfetta resa cromatica. Inoltre la funzione Crear Motion Rate permette di avere immagini nitide anche nelle scene di azione più frenetica. Quello che rende ancora più innovativi questi TV è l'interfaccia che Samsung vi ha implementato. È possibile infatti scegliere tra le numerose applicazioni per ampliare le funzionalità delle S5500. Sarà possibile navigare tra i social network, sul web, sfogliare le notizie o parlare con gli amici attraverso Skype stando comodamente sul divano. Inoltre per chi lo possiede sarà possibile usare un tablet o smartphone Samsung come controller per chattare o giocare. I nuovi Smart TV Samsung della serie 5 sono davvero pieni di tecnologia, dispositivi ricchi di funzionalità che rivoluzionano quello che era il concetto di normale televisore.